Oh, sono Pianco di Xenic Oh, oh, oh Bene ragazzi, siamo i Granas Oggi siamo in piedi perché si sono notte le serie Sì, esatto Bene ragazzi, bentornati qui sul canale di Granas Oggi facciamo una battaglia rap Yo, yo Con qua ti sto col cappello suo Come me sta il cappello? Sei come il tifo Oh, pezzi Vabbè, io sono Daryl Vengo in pace E amore totale No, vabbè, questo deve essere un video serio No, è un video serio in realtà Non facciamo mai video serio Quindi prendetela molto easy Ed è per annunciarvi delle bellissime cose Ovvero saremo presenti al Romix Romix, le date quali sono? 2, 3, 4, 3, 5 Quindi giovedì, venerdì, sabbara e domenica 2, 3, 4, 5 ottobre Sì, ci dovete anche giovedì Esatto Buonissima, bam, bonus day Ovviamente saremo io e lui e basta Perché ci fermeremo le fotografie a vicenda Perché giovedì andate tutti a scuola Però comunque ci troverete anche giovedì Allo stand dove ci saranno quelli di Mel Dodo Saremo insieme a loro all'interno dello stand Quindi sarà facile trovarmi Poi comunque sulla pagina Facebook Andate sulla pagina Facebook Mettete mi piace Perché lì vedrete tutti gli aggiornamenti Allora, io voglio dire Due cose Allora Sì, saremo il giovedì, venerdì, sabbara e domenica Allo stand di Mel Dodo A Romics Questa macchina alla sera L'ha già detto lui, però non volevo dirlo In questi giorni non scriveremo molto sui social Tranne che su Instagram Praticamente noi aggiorneremo tutto il nostro diario di giornata Aggiungendo foto della giornata su Instagram Ognuno non ha fatto Probabilmente sarà così Se potete rimanere aggiornati con noi Cioè, seguiteci su Instagram Perché in questi giorni rimanete aggiornati con noi su Instagram Magari con qualche fan simpatico Ci faremo pure le foto e metteremo i fan con loro Le foto con loro Subito le fan, lui, eh Vecchio macchio No, le foto, non le fan Vecchio travano Ma ha capito in niente Vecchio travano Vecchio travano Comunque I profili Instagram li troverete qui sotto Veniteci a trovare la Romics Perché saremo lì Sì E ho detto 10 volte Esattamente E niente Per dirvi anche che in descrizione ci sono dei link importanti Oltre a quello di Instagram che vi ho appena detto Quindi seguiteci su Instagram Ci sono dei altri link Cioè, a parte il primo link è questi cazzi Non ce ne frega niente Che è quello di chiedi Ma non ce ne frega un cazzo in questo video C'è sta la pagina Facebook Quella è importante Seguiteci Ci sono anche i nostri profili personali di Facebook Sempre Quindi cliccate sul tastino segui Fatemi recuperare sto schifo Perché io ho cambiato profilo Se voi non lo sapete Lo sapete adesso E c'è anche il mio profilo Che volete Sì Fatemi arrivare a 1100 Seguas Esattamente Io Mettete Se no Sti cazzi Comunque Oggi non ci sta solo questo di video E potrei dire Stasera Stasera alle 7 Road to Division 1 Cioè, un altro episodio di Road to Division 1 E quindi ci vediamo stasera Col prossimo video Ciao Bella Ciao 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 Ciao